Le bolle blu che danza! Un bel tè, tè alla pesca o al limone, in acqua minerale vera, anche senza zucchero. IP, Italiana Petroli, presenta Bernardo Strozzi, il frate, l'uomo, l'artista che ha reso grande il 600 genovese, con una produzione vastissima di straordinario impatto emotivo. Genova, Palazzo Ducale, dal 6 maggio a 6 agosto. Io non sono Eva Thomas, sono Perla. Quella che è morta nell'incidente era la mia amica, la vera Eva, Eva Monaldi della Torre. Proprio così, e una volta l'avevi quasi indovinato. Lei era la vera Eva, e io ero la sua migliore amica. Perla nera, domani alle 20.45 su Rete4. Ehi, ti va di vedere un bel film? Puoi andare al cinema, su grande schermo? Naturalmente, paghi il biglietto. Oppure puoi vederlo in videocassetta? Ottimo! A casa tua, quando vuoi tu il film che vuoi tu. Naturalmente, paghi il noleggio. Vuoi vederlo sulla TV a pagamento? Mille film all'anno. In prima visione TV. Nessuna interruzione pubblicitaria. Naturalmente, paghi l'abbonamento. Puoi vederlo sulla Rai. E con un solo inserimento pubblicitario. Ma per questo, paghi 158.000 lire. E tutti noi insieme, 2.500 miliardi di canoni all'anno. Se lo vuoi gratis, ci sono Canale 5, Italia 1, Rete4 e le altre TV commerciali. Perché è solo grazie alla pubblicità che queste ti offrono dei film senza farti pagare nulla. Buona visione. Un'indagine intricata per il tenente Colombo. Otto piccoli frammenti di una fotografia. Per ricomporre un puzzle che lo porterà a ritrovare un bottino di 4 milioni di dollari. Ma questa volta i pezzi del puzzle non sono tutti nelle scatole. Con il tenente Colombo, indagine e incastro. Martedì alle 20.45 su Rete4. Star Lauro. Magie delle crociere. Grand Hotel ti regala la grande enciclopedia illustrata 200 piante e fiori di casa. Una guida preziosa per sapere come curare e conservare ognuno dei 200 tipi di piante verdi e fiori di casa. Questa settimana in regalo la copertina e il primo fascicolo di 24 pagine per diventare un pollice verde. Con Grand Hotel partecipa al concorso fotografa la tua oasi verde. E inoltre i personaggi, la moda, la cucina, i programmi tv e come sempre le storie d'amore e di vita nei racconti e fotostorie di Grand Hotel. Grand Hotel, il settimanale completo per la donna. Costa solo 2.500 lire. Di apretti ce ne sono tanti. Ma solo uno ha il manico. Merito. Se c'è il manico, è solo merito. Publitalia 80, Ferrovie dello Stato e 70 editori presentano Parole in tasca, mostra del libro tascabile ed economico. Sabato 29, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio al castello di Belgioioso. Un lungo weekend di buone letture. Il portapane mulino bianco è un raffinato incontro di legno naturale e ceramica bianca. Creato per portare a tavola tutti i sapori del pane. E' un regalo solo di fette biscottate, cracker, grissini, pangri, granetti, michetti e pane mulino bianco barino. Il portapane per chi non vive di solo pane. Ho scelto. È Candy. Candy. La tranquillità è di casa. Ragazzi, la merenda. Io la solita merenda, non la voglio più, non la voglio più. Voglio molto, molto, voglio molto di più, di più, di più. Senti carino, ehi, senti anche tu. Oggi a merenda c'è merenda più. Il latte, latte si fa gelato col pan di spagna, gnam, gnam. È merenda più. È la merenda col gelato, cosa vuoi di più? Merenda più. La merenda col gelato in più. Se c'è il gelato, cosa vuoi di più? Ha rubato il dipinto? No, sì. Sì, ma no. La bella Chelsea è nei guai. Picasso è uno dei veri maestri di questo secolo. Chi crede che Chelsea Dirdon sia colpevole? Un caso molto complesso e pericoloso. Sì, io so qualcosa del grande. Per i bellissimi Robert Redford, Barry Lanna e Deborah Winger in Pericolosamente insieme. Stasera alle 22.35 su Rete4. Gennari, Gennari. È andata bene, signore? Una meraviglia. Siro meglio dell'onghi, un nuovo sistema di stirare. Due ore di vapore. Mano mare e vapore. Perché? Siro meglio che ha? Due caldaie. E gliel'ho venduta io. Perché due caldaie? La caldaia è grande per avere tante ore di vapore. La piccola per averlo subito dopo quattro minuti. Guardate, venite a provare. E gliel'ho venduta io. Che si sappia, gliel'ho venduta io. Ma chi gliel'ho venduta io? Ma come chi gliel'ho venduta io? Gliel'ho venduta io. Stiro meglio due, dell'onghi. Ho scelto Rosso 24 Ore di Deborah perché voglio un rossetto super resistente. Il suo Color Lasting Factor fissa i colori per tutto il giorno. Rosso 24 Ore, brillante od opaco? Sei fantastico! Io scelgo Deborah. Roberta Melò impiegata. Pesa 63 kg. Per tre settimane il suo pasto di mezzogiorno sarà due barrette al cioccolato di peso forma. Allora Melò, dopo tre settimane com'è andata? Peso forma, lo sognavo. Sa di cioccolato, lo mangi in ufficio senza sbriciolare. Due barrette in borsette e via. Poi di sera, carne o pasta, seguendo il piano peso forma. È dimagrita, eh? Il peso è 59. Ha perso 4 kg. Fantastico! Peso forma. Perdi peso. E resti in forma. Solo lui è Loveable Ring. Il fascino più comodo che c'è. E resti in forma. Ai bambini piace molto la pubblicità. Ecco perché noi grandi abbiamo il dovere di dire sempre la verità. Spiego. Per esempio, il signor Rovagnati. Ma tu lo conosci? Certo che lo conosco. Dicevo, il signor Rovagnati è così sicuro della bontà, della qualità, della leggerezza del suo prosciutto gran biscotto che... Oh, guarda, lo firma dappertutto. Così la tua mamma potrà sempre riconoscerlo. Ma tu fai pubblicità? Io? Ah! Sì. Rovagnati. Il profumo, il sapore, la firma. Il fascino comincia dallo sguardo. Sil Volume Express. Il nuovo mascara ultra volume di Gemay. Gemay. L'unico. Con applicatore triangolare. Fin dal primo passaggio raddoppia il volume delle ciglia. E le separa una a una. Le tue ciglia raddoppiano di volume. Sil Volume Express. Gemay. Con Sil Volume Express non si vedono che i tuoi occhi. Le tue ciglia raddoppiano di volume. Il tuo sguardo raddoppia il fascino. Sil Volume Express. Un'innovazione firmata Gemay Paris. Gennarì! Gennarì! È andata bene, signor? Una meraviglia! Siro meglio dell'onglio, un nuovo sistema di stilare. Due ore di vapore! Manu mare e vapore! Perché? Siro meglio che ha? Due caldaie! E gliel'ho venduta io! Perché due caldaie? La caldaia grande per avere tante ore di vapore. La piccola per averlo subito dopo quattro minuti. Guardate, venite a provare! E gliel'ho venduta io! Che si sappia, gliel'ho venduta io! Ma chi gliel'ho venduta io? Ma come chi gliel'ho venduta? Gliel'ho venduta io! Stiro meglio due del lunghi. Quando amo, metti un blues, il preservativo che libera l'amore. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Sono qui per controllare con mano chi è dimagrita sodo. Come? Con Enervit Protein. Pizzi come! Scusi, non tasto, testo. Non lo usa. Non lo usa. Complimenti! Usa Enervit Protein? Certo! Con Enervit Protein in poco tempo ho perso i chili di troppo che avevo. E tutti di grasso, non di muscoli. Questo è d'accordo con Enervit. È vero, ma io lo so sul serio. Vuol controllare? Venga a casa mia. Lo faccio per voi. Con Enervit Protein dimagrisci sodo perché brucia i grassi, non i muscoli. Così le presento mio marito. Una presentazione viva vita oli. L'olio non shampoo che lava i capelli. Perno ha trovato Pellissier. Ora tocca ai finanzieri tirarlo fuori nel più breve tempo possibile. Invece di esigere il compenso per il lavoro svolto, Ottone si è presentato con tante cose utili per la donna, i bambini e la casa. E diede la sensazione che non voleva essere salvata, non voleva, rifiutava di prendere il salvagente. Io dai miei bambini ogni giorno, ogni ora, dicevo sempre molto di più di uno che di me. Siate anche voi con noi. Cuori d'oro, mercoledì alle 20.30 su Rete Patto. Io dai miei bambini ogni giorno,